Intanto un pregoce ringraziamento di partecipanti, vi voglio combinare una volta solo e poi di Vincenzo, Scenna, Zanoni, Mandozzi, Capriere, Clamenti Comini, Ricaccio del Papino, Regiglio, Molino, Marconchini, Mancini, Paragalli, Clamenti Francesco e Sorgi. Un grazie a tutti voi e poi a me, a tutti, a tutti, a tutti, passiamo subito dalla prima domanda, quella meno cosa, perché è il primo campionato di Cernese, primo classificato, alla prima volta si fa questo e si ripeterà a me, campione provvisore, come c'è l'etica, dopo a me si fa il passaggio, se ne mancheremo, esce, Gramenti Francesco primo, bravo, 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 e secondo, secondo, non provvisore, si dice campione di incarico, adesso è in carico, aspetta, secondo, aspetta, secondo, secondo, Sorginino, bravo, grazie, grazie, grazie mille, Presidente, eh, Paolo Presidente, eh, Paolo Presidente, 파olo Presidente, E vai, tutti gli altri quindi a pari merito, dopo vedremo il successo. Grazie a tutti, adesso andiamo a premiare il terzo trofeo, città di Trovicella, di Coriziana, primo classificato, Scena Gianbranco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.